Dopo la straordinaria vittoria per 7-2 ottenuta nel turno scorso con Eboli, l'Ital Service Pesaro si è messa nelle condizioni di essere padrona del proprio destino nell'ultimo atto di Padova. Se sabato 6 maggio alle ore 18 vince sul campo del Petrarca, ultima gara della regular season, sarà salvezza diretta per la società del presidente Lorenzo Pizza. Per vincere bisognerà però passare per un Petrarca Padova con le spalle al muro del dover evitare la retrocessione diretta. Se arriverà una sconfitta saranno play-out per l'Ital Service, se arriverà un pareggio bisognerà comprendere gli incastri determinati dal risultato del Monastir. Giocheremo tutto lì, sarà una finale, è una partita molto dura, la squadra loro è molto forte però ce la metteremo tutta. È una partita che vale tutta la stagione per noi e per loro e tocca vincere per forza. Secondo me c'è poca tattica questa gara, è più cuore, più grinta, più voglia di vincere, la squadra che sbaglia di meno vincerà. Carica di un Tony Dandel che commenta così il traguardo appena raggiunto delle 300 presenze personali collezionate in Maglietta al Service. Una gioia molto grande, come ho detto già non ci sono scudetti, coppa che si possono paragonare perché sono pochi giocatori che sono rimasti così tanto tempo in ogni squadra e io ci tengo tantissimo e per me è stata una gioia infinita.